Imparare a pensare oggi è fondamentale perché permette di trasformare il presente e progettare il futuro. Avere delle buone domande è più importante che avere delle buone risposte e quindi è essenziale oggi apprendere l'arte di sollevare punti interrogativi. Le idee non ci appartengono, le idee ci vengono. Per farsi venire delle buone idee però bisogna imparare a pensare. Sono Mauro Gancitano e questo è il mio corso sulla filosofia per competenze.